Per gli amici di Elibasket qui oggi con Jonathan Davernari. Jonathan, una partita forse dalle due facce, un primo tempo più sofferto, un secondo tempo dove avete preso il largo, 108 punti. Forse qualche gioco non portato a termine come il coach vuole, ma questi 108 punti sono tantissimi. La cosa importante è che stiamo piano piano diventando una squadra, nel condividere la palla in attacco, nel difendere insieme. Quindi piano piano stiamo diventando veramente un gruppo e quello è importante. Ovviamente sono cose che ci vuole tempo, non è come preparare una pasta, non c'è una formula, se no sarebbe troppo facile. L'importante è che abbiamo vinto, il playoff è sulle nostre mani, controlliamo il nostro futuro, quindi quello è importante. Il palazzetto si sta riempiendo sempre di più piano piano? Vincere, quando si vincere è tutto più facile, no? Mia moglie è più bella, mio figlio è più forte, la pasta è più buona e quindi quando si vince è tutto più bello. Grazie mille Jonathan.